Simone non è un atleta classico, ma è una persona fuori dal comune. Aveva questi suoi sogni, queste sue avventure quasi anche impossibili. Ogni spedizione con Simone Mora è avventura grandissima. La prima idea di Simone era una pazzia. Ci siamo accorti della carenza di un sistema di elisoccorso di professionisti in Himalaya. L'ambiente elicotteristico è scettico di per sé. È arrivato lui uno che fa l'alpinista, cosa vuole. E' un'arte pilutare un elicottero. Lo servono decenni, non domani, decenni per imparare. Quella macchina teoricamente non potrebbe arrivare con la quota. La prima idea di Simone Mora è un'arte pilutare un'arte pilutare.